Oggi ci operiamo non per una questione salariale, ma per salvaguardare il sistema energetico nazionale e di questa regione Marche, anche di questa città. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questo momento Enel sta appaltando tutte le attività, anche quelle veramente core, di manovre all'interno delle cabine, di ispezioni, tutte attività che negli anni passati abbiamo fatto noi dipendenti elettrici e la qualità dell'impresa di appalto non è una qualità degna di un servizio elettrico di questo paese. C'è anche un tema sicurezza fondamentale, gli infortuni oggi stanno accadendo proprio in queste imprese qua, poi c'è anche un tema di riduzione degli investimenti sia nella rete elettrica, la regione Marche è una delle regioni terz'ultima a livello italiano per investimenti rapportato al numero di impianti e soprattutto anche per quanto riguarda il green i soldi del PNRR ci sono, però questa è una regione che preferisce, Enel preferisce in questa regione tenere impianti fermi e a produzione minima per non spendere, per non rinnovare, per non fare sistemi di pompaggio e altro. Abbiamo spiegato anche le motivazioni al prefetto perché siamo molto preoccupati per il futuro del servizio elettrico, non ci sono basi rivendicative o corporative alla base della nostra protesta ma scioperiamo per gli investimenti che devono andare sul territorio, per l'occupazione, per la sicurezza sia del servizio elettrico ma anche per la sicurezza degli operatori perché sempre di più Enel sta esternalizzando attività fondamentali che rischiano anche poi di avere delle ripercussioni importanti sulla sicurezza del lavoro e per queste cose il prefetto è stato molto attento, ha naturalmente preso nota di tutte le nostre rivendicazioni e le nostre annotazioni e le segnalerà per quanto riguarda il governo perché comunque il governo è di maggioranza dell'Enel e quindi ha una voce in capitolo forte sull'indirizzo che questo amministratore delegato sta dando in contraddizione alla concessione pubblica e è una concessione che riguarda il servizio pubblico.